Si sono tenuti ieri i funerali in forma privata della piccola di due anni, trovata morta a Trinitapoli sabato scorso. All'indomani dell'autopsia, eseguita presso gli ospedali riuniti di Foggia, il corpo della piccola è tornato nella cittadina Ofantina per l'ultimo saluto in cattedrale, davanti a centinaia di persone. Nel frattempo un gruppo di mamme ha organizzato una fiaccolata per le vie del centro per stigmatizzare il dolore di tutta la comunità per la morte della bambina, che resta ancora senza motivo e assenza responsabili. La fiaccolata partirà alle 19 di sabato e attraverserà il centro di Trinitapoli. Martedì l'autopsia aveva escluso che la piccola potesse essere morta a causa di percossi o maltrattamenti, così come era stato ipotizzato in un primo momento. Resta aperta però l'indagine a carico di ignoti per omicidio colposo e tre mesi di tempo per capire dei risultati degli esami istologici e tossicologici cosa abbia provocato il decesso. Sin dal primo vertice in procura, subito dopo la morte della bambina, ascoltando la madre e gli investigatori avevano appreso di un altro fattore che aveva riguardato la bambina prima di morire. La possibile erronea somministrazione di un farmaco che prendeva abitualmente per problemi di salute legati ad un deficit cognitivo. Anche su questo si sono concentrate le indagini. Gli esami di cui si attende l'esito serviranno a capire se per responsabilità di chi è in quale misura il farmaco somministrato possa essere compatibile con il decesso. Intanto i fratellini della piccola sono stati affidati ai nonni materni dal tribunale dei minori.